Negli scorsi video abbiamo parlato di Trading System e abbiamo creato una vera e propria serie di cui vi lascerò il link della playlist in descrizione. Adesso però è necessario una VPS su cui far girare il nostro Trading Bot e oggi vi mostrerò una realtà italiana che ci offre questo servizio. Io sono Giacomo e condivido sul canale quella che è la mia esperienza riguardo ai mercati finanziari. In parecchi di voi mi avevano chiesto nei commenti degli scorsi video di presentare un servizio di VPS che fosse affidabile per appunto essere utilizzata per far girare i nostri Trading System. In questo video infatti vedremo una prima fase descrittiva delle VPS e successivamente vedremo una vera e propria installazione e settaggio di una VPS per un Trading System. Ovviamente questa VPS potrà poi essere utilizzata anche per altri scopi. Essendo questo un canale di Trading parleremo principalmente di questo primo scopo. Inoltre nella fase di installazione verso la fine ci sarà una sorpresa per voi che guardate questo video. Se siete in questo video sicuramente sapete che cos'è una VPS, ovvero non è nient'altro che un computer virtuale che noi prendiamo in fitto e che possiamo tenere acceso H24. Questo è importante per la stabilità del nostro Trading System soprattutto per quanto riguarda la connessione a internet. Infatti ci permette di avere una latenza molto bassa ed è preferibile a livello di sicurezza rispetto a lasciare un nostro computer acceso H24. Questo perché ci permette innanzitutto di risparmiare soldi per quanto riguarda l'elettricità necessaria a mantenere il computer acceso. Inoltre ci permette di evitare che i componenti del nostro PC vengano danneggiati a furia dell'utilizzo appunto H24. Oggi voglio parlarvi di DeepGate che è una realtà italiana che appunto fornisce sistemi di VPS. DeepGate è stata creata da Marco che è un ingegnere informatico con cui ho avuto il piacere di parlare così da farvi avere dei vantaggi. Uno degli aspetti principali delle VPS è sicuramente il costo. Infatti ci sono molte VPS che addebitano un costo in base all'utilizzo. Quindi è sempre un'incognita di quanto si andrà a pagare. In questo caso con DeepGate invece il costo è fesso. In questo modo possiamo essere tranquilli di non avere ulteriori addebiti. Adesso però entriamo nel pratico e diamo un'occhiata al sito. Eccoci siamo adesso davanti al computer. Vi ricordo che vi lascerò il link in descrizione. Dateci un'occhiata perché ci sarà anche un codice sconto. Bene partiamo con il settaggio. Innanzitutto possiamo cliccare su parti adesso e vediamo che abbiamo qui tre pacchetti. Ovvero il bronze, il silver e il gold. Di questi tre pacchetti ho chiesto personalmente a Marco di farvi ricevere uno sconto del 30% per il primo servizio che acquisterete. Per ricevere lo sconto sarà necessario cliccare il link che troverete qui sotto in descrizione e utilizzare il conto Trade the Price. Ovviamente vi lascerò tutte le informazioni in descrizione e vedremo adesso passo passo come fare. Quindi partiamo con la vera e propria registrazione. Innanzitutto scegliamo appunto uno di questi tre pacchetti in base alle caratteristiche che a noi servono. Quindi vediamo che poi qua abbiamo ulteriori informazioni a cui potete dare un'occhiata. E clicchiamo su Order Now. Qui ci viene chiesto se vogliamo pagare mensilmente, trimestralmente oppure annualmente. Ovviamente scegliendo il pagamento annualmente avremo un ulteriore sconto del 10%. Dopodiché andando in basso possiamo scegliere quello che è il sistema operativo. Ovviamente qui ci viene consigliato il più vecchio in quanto è anche più leggero. Ma potete scegliere quello che più vi interessa in base alle vostre esigenze. Inoltre possiamo anche scegliere Windows ad esempio 2019. Vediamo che il costo rimarrà invariato. Io però al momento lascio quello del 2012 visto che è quello che ci consigliano loro. Per quanto riguarda la location se non abbiamo particolari esigenze possiamo benissimo lasciare Londra. Come vedete essendo questa una VPS dedicata proprio ai trading system, non a caso si chiamano trading VPS, possiamo avere un'opzione addizionale ovvero quella di avere un unico IP. Questo può essere utile per chi magari deve utilizzare il trading system su una prop form. Perché ci sono molte prop form che richiedono appunto che ci sia un unico IP collegato. Selezionandolo ovviamente ha un costo di appena 2,50€ in più al mese. Dopodiché una volta arrivato a questo punto clicchiamo su continua e verremo rindirizzati nella fase di pagamento. Qui facciamo attenzione perché prima di andare avanti dobbiamo inserire il codice promozionale all'interno di questa casella. Infatti qui dobbiamo scrivere trade the price. Una volta aver scritto trade the price dobbiamo cliccare su validate code. Infatti vediamo che abbiamo uno sconto del 30% sul primo acquisto che andiamo a fare. Quindi anziché pagare 429€ per un anno di VPS pagheremo solo 300€ compreso appunto l'unico IP. Ovviamente io qua vi sto mostrando il pagamento annuale. Però poi voi siete liberi di scegliere tra i tre tipi di pagamenti che abbiamo visto prima. Mensilmente, trimestralmente e annuale. Ho scelto l'annuale in quanto mi costa di meno. Vi ricordo poi inoltre che il codice sconto ve lo lascerò qui sotto in descrizione. Così potrete copiarlo e incollarlo direttamente nella fase di checkout. Successivamente abbiamo poi la creazione dell'account. Quindi inseriremo tutte le nostre informazioni. Quindi creiamo una password e inseriamo i nostri dati. Scegliamo il metodo di pagamento. Come vediamo c'è anche la possibilità di utilizzare Paypal. Bene. E dopodiché andiamo su Checkout. Bene. Una volta aver effettuato l'acquisto clicchiamo su Continues to Client Area. Dopodiché riceverete una mail sul vostro indirizzo che avete specificato. In cui viene detto che entro 12 ore la vostra VPS verrà settata. Infatti vedremo successivamente in questa schermata cosa succede una volta che abbiamo la conferma. Per vedere che abbiamo effettuato tutti i passaggi correttamente. Basta andare in Services e vedere appunto che abbiamo qui la nostra VPS e lo stato. Dopodiché come vedete possiamo ritornare sulla dashboard. Quindi sulla prima schermata che abbiamo quando ci loghiamo. E vedete che qui in basso abbiamo anche l'assistenza. Quindi nel caso abbiate problemi nelle fasi successive sapete che potete fare affidamento all'assistenza. La fase di creazione della VPS mi conferma a Marco che dura fino a un massimo di 20 minuti. Quindi entro questo arco temporale dovremmo avere nella nostra dashboard iniziale quella che è la nostra VPS con lo stato attivo. Dopodiché una volta che lo stato è attivo riceveremo una mail in cui avremo il nostro IP, l'username e la password. E avremo il link tramite cui connetterci alla nostra VPS. Nel mio caso sono su Windows quindi utilizzerò il link per accedere appunto tramite Windows. Cliccando sul link veniamo direttamente reindirizzati a un tutorial che ci forniscono da DeepGate. Scendendo in basso invece abbiamo la versione scritta del tutorial e quindi noi andremo a seguire questi passaggi. Ovvero scriviamo sulla nostra barra di ricerca Remote Desktop Connection e inseriremo poi i dati che ci sono stati forniti sulla mail. Quindi username e password. Quindi facciamo come scritto andiamo nella nostra barra di ricerca, questo sul nostro computer. Scriviamo Remote Desktop, clicchiamoci sopra. Qui dovremmo inserire quello che è il nostro IP address che ci arriva sulla nostra mail. Quindi lo andiamo ad incollare e clicchiamo su connetti. Dopodiché abbiamo il nostro username che è lo stesso che ci arriva tramite mail e quindi lo andiamo ad incollare e la password anche questa la troviamo sulla nostra mail. Clicchiamo su ok. Qui ci viene chiesto appunto se conosciamo quella che è l'identità del computer a cui ci stiamo connettendo. Noi clicchiamo sì. Bene qui possiamo iniziare a settare il tutto per il nostro trading system. Bene dopodiché se vogliamo collegarci anche da smartphone possiamo farlo. Ci ho già fatto un video tutorial su questo ma nella mail di DeepGate avrete anche queste informazioni. Dopodiché vediamo velocemente come instaurare la MetaTrader anche se penso che già molti di voi lo sappiano fare. Andiamo su Google Chrome in questo caso della VPS. Scriviamo MT4 Download. Clicchiamo su invio. Piggiamo sul primo link che ci viene. E clicchiamo su Download MetaTrader 4 for Windows. Qui abbiamo l'esequibile quindi che apriamo e lo avviamo. Quindi questo la possiamo chiudere. Andiamo su Next. E qui ci installerà la nostra MetaTrader. Clicchiamo su Finish. E vediamo che abbiamo qui la nostra MetaTrader. Che ci si apre in automatico. A cui noi possiamo loggarci al nostro conto di trading. Quindi inseriremo quello che è il nostro broker. E procederemo con la fase di login alla MetaTrader. Adesso voglio darvi però qualche tips. Quindi ingrandiamo quello che è il grafico della MetaTrader. Nel momento in cui andrete ad utilizzare un trading system sopra la VPS. Come sappiamo noi abbiamo un tot di memoria RAM e di memoria del computer. Che possiamo utilizzare in base al pacchetto che abbiamo scelto. Bene per evitare di sovraccaricare la VPS. E quindi per avere una VPS che va più veloce a meno latenza possibile. Quello che io consiglio di fare è di chiudere questa scheda. Innanzitutto in cui generalmente abbiamo i prezzi che si muovono in tempo reale. E quindi quelli sono dati in più che abbiamo. Ma che a noi non ci servono se faremo girare il nostro trading system. Stessa cosa vale per la barra di navigazione. Qui avremo questa finestra. Anche questa la possiamo chiudere perché non ci servirà. In cui verranno visualizzate le operazioni. Ma noi le vedremo da smartphone. E quindi anche questa la andrei a chiudere. Le uniche schede che io terrei aperte sono queste. Ovvero i grafici sul cui il nostro trading system effettivamente girerà. E tutte le altre schede chiuse. In modo da avere la metatrader pulita. E che giri in questo modo molto più facilmente. Adesso per il piano che abbiamo utilizzato. In realtà non abbiamo di questi problemi. Però appunto più alleggeriamo la VPS. E meglio è per il trading system. Ovviamente qui poi dovrete settare il vostro trading bot. Attivando l'autotrading. Ma queste sono tutte cose che abbiamo già visto. Nella playlist riguardo ai trading system. Bene ragazzi vi ricordo il 30% di sconto nel link in descrizione. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Se questi video sono utili per voi. E noi ci vediamo al prossimo video. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I down fall. My love if you...